Gentili telespettatori, buona giornata. Attenzione, è arrivata la quindicesima priorità per il segretario del PD, Enrico Letta. L'incredibile quindicesima priorità che, come le altre 14 precedenti, non ha nulla a che fare con la crisi sociale, sanitaria ed economica, ma sono solo fattacci suoi e del suo partito. Vediamo la quindicesima priorità. Quella frase pronunciata da Corrado Formigli a Piazza Pulita sottointende un piano preciso. Non escludo alleanze con Silvio Berlusconi, dice in diretta Enrico Letta. Una dichiarazione incredibile a quale ha fatto seguire un'altra. Attenzione, i nostri ministri vanno molto d'accordo con quelli di Forza Italia. Brunetta, Gelmini, Carfagna, insomma un patto tra azzurri, che non è la nazionale ma sono quelli di Forza Italia e il PD. È possibile anche oltre la chiamata di Sergio Mattarella per sostenere il governo di Mario Draghi. Potrebbe crearsi quell'asse, quell'assetto tra riformisti e antisovranisti che a Bruxelles si riconoscono nella maggioranza Ursula. Bene, in Europa siamo alleati, dice il buon Enrico Letta. Siamo alleati? In Europa siamo insieme, qua nel governo siamo insieme, tutta una grande famiglia, in CDM, nel Consiglio dei Ministri c'è Brunetta, Carfagna e Gelmini. Sono quelli che vanno più d'accordo con i nostri ministri, sono papeciccia, fanno le cose insieme. Pensate, magari si prendono anche il caffè insieme. Fanno le cose insieme senza problemi, dice Enrico Letta. Lo dice a chiare rettere, il segretario del PD da Formigli. E poi precisa, con Salvini andremo divisi alle elezioni, ma con Forza Italia appunto il discorso è diverso. Nel partito del Cavaliere ormai, il Cavaliere ormai è il capo di Forza Italia e lo sarà sempre, ma realmente il partito di Forza Italia è un partito un po' in disarmo, in disuso, un po' obsoleto, se mi permettete il termine. Certo non è offensivo, però è un partito in decadimento. La leadership ormai in mano a Berlusconi che si sta preoccupando giustamente della sua salute, della sua età. Non c'è un ricambio generazionale in Forza Italia. L'ultima cosa che sappiamo è che Berlusconi subiva il fascino del Giuseppi, si corteggiavano a vicenda come sei bravo, come sei intelligente. E adesso poi il Berlusca si era fatto far su dal governo di prima, lo avevano adulato, grande statista, grande uomo, grande politico. Ma come? Era il Cavaliere Nero, hanno fatto 26 anni di processi per farlo fuori dalla politica, adesso è diventato il grande statista. Perché? Avevano bisogno dei suoi voti al Senato e lui c'era cascato come una pera. Dice mi stimano i miei antichi avversari. No, non è che ti stimano, t'hanno fatto su, t'hanno incartato, t'hanno impacchettato. Però, insomma, lui c'è cascato, lasciamo che ci caschi. Ecco, Letta per vincere, per vincere le elezioni, non lo può fare solo coi 5 stelle e qualche partitello stile azione, l'altro, Italia Viva. Ecco, tutti quei partitelli lì messi insieme, che magari non arrivano neanche al 3%, non servono alla causa di Letta. Lui vuole diventare presidente del Consiglio, è chiaramente. Però noi potremmo dirgli stai sereno, Enrico, stai sereno, non lo diventerai mai. Lui dice l'unica possibilità, l'unica possibilità di vincere le elezioni è dividere Salvini da Meloni e ci ha provato. Meloni ti aiuto io, ti aiuto io col Coppa Sir, ci siamo noi del PD, non ti preoccupare. Ecco, o dividere il centrodestra tra Salvini e Meloni, oppure dividere Forza Italia da Salvini e Meloni e portarlo verso il PD. Dice, ma c'era riuscito anche l'altro Matteo, il Renzi? Eh, ti ricordate Renzi e il Berlusca, in quella cosa un po' curiosa. Dice, beh, se lo ha fatto Renzi, io che sono meno Renzi e più di un certo tipo, magari posso convincere il Berlusca, visto che ci troviamo così bene in CDM, con i nostri ministri. Ecco, portare via un 7% del Berlusconi e portarlo verso sinistra, eh, andrebbe a portare i due schieramenti praticamente in pari. E questo darebbe una chance a Enrico Letta di vincere. Quindi questa è la unica soluzione. Riporta la Repubblica potrebbe provare a disarticolare il campo avversario cercando di sottrarre al centrodestra la gamba decisiva per scalare Palazzo Chici. Un piano preciso ancora non c'è, molto dipenderà dalla durata della legislatura, riflette un big, un grande del PD. Se si va a scadenza naturale ci sarà più tempo perché alcuni processi arrivino a maturazione, altrimenti sarà più complicato. Processi a maturazione? È un po' inquietante dire in questo momento che alcuni processi arrivino a maturazione. Saranno dei processi politici o dei processi a Matteo Salvini? Non lo so. sapete che le parole sono dei macigni. Ecco. Insomma, anche lo stimatissimo giornale di sfacciatamente di sinistra come Repubblica dice, beh, c'è un piano di Enrico Letta, la quindicesima priorità. Tutte le altre quattordicesime, quattordici priorità ve le elenco velocemente. Iussoli, voto ai sedicenni, legge elettorale, come chiamare la presidente del PD al Senato, ascoltare le priorità delle sardine, coltivare le sostanze sul balcone, avvicinare Renzi per battere Salvini, con Salvini mettersi d'accordo per cosa fare nei prossimi vent'anni. Poi la terza via. Numero 9, digitalizzare il PD. Numero 10, fermare i cambi di casacca. Numero 11, mandare i questionari alle sedi del PD per vedere cosa ne pensano del PD stesso. Punto 12, portare Prodi come capo dello Stato e lui diventare presidente del Consiglio Letta. Punto 13, la legge Zan. Punto quattordici, incontrare il fondatore di Open Arms per fare un dispetto a Salvini e fargli capire che lui sta con le ONG. Punto 15, prendersi Forza Italia e spaccare il centrodestra. Avete visto che non c'è niente su quello che sta succedendo adesso, niente su situazione sanitaria, economica e sociale, tutto fattacci suoi. Complimenti, number one, Henry Coletta. Grandissimo, grandissimo capo politico dei Dem. Grandissimo. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.